l'italiana cultura, il vivo della cultura dell'italiana, il vivo dell'arte italiana, il vivere di tutto ciò che i nostri predisciati, i settori, raggiungerla. Grazie a tutti, grazie a tutti i miei amici per essere qua a celebrare questo unico che è molto importante, non è il nostro dito. E un po' in inglese, solo per... Grazie a tutti, siamo molto felici di essere qui con Alessandro Canesti e questa bella pittura che il Museo dell'Art e dell'Istituzione ha chiesto per il suo suo collezione. Abbiamo incontrato l'alessandro 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 è stato un grande sorpresa per noi e anche per l'Italia. Ora il suo successo è crescita, quindi siamo più felici di dire che abbiamo l'alessandro Canesti in nostro collezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti per questa unica opportunità di contribuire di un'alessandro di un'alessandro per l'allessandro l'alessandro di questo unico museo di arte e la scienza. è la verità di un'alessandro per l'alessandro per l'alessandro l'alessandro di un'alessandro l'alessandro. che vedo, perché senza la scienza l'alessandro non è completato, senza la scienza senza l'alessandro. E l'alessandro è più interessante perché l'alessandro è utilizzato a priori l'alessandro, che è più importante che l'alessandro l'alessandro, l'alessandro l'alessandro. Quindi per il sviluppo di un'alessandro l'alessandro l'alessandro questo museo ha avuto più importante, ha avuto più importante role. E per il corso generale, per la rivoluzione dell'alessandro l'alessandro l'alessandro l'alessandro, che a questo punto è un po' un po' di stagione, e tutti devono contribuire a non permetteremo di perdere quello che è stato ottenuto e l'alessandro 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 l'alessandro. E l'Italia farà rimanere secondo l'alessandro 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 l'alessandro, l'art e il città. Questo museo è molto importante, molto importante e molto attraversi per questo processo molto unico e importante. Grazie mille a tutti i miei amici, e alcuni miei amici hanno fatto questo spettacolo oggi, anche da Roma, come Gia Pompa ha fatto. E ho apprezzato a tutti, mi piace a tutti, e tutti i miei amici, sempre, e anche a questo museo. Quindi questo momento è molto importante. Scusate un attimo, prima di andare via, vi vedete qui, per favore, tutti i miei amici, grazie. Alexander, le vostre via, per favore. Scusi.